Ma aspetta un attimo Ma aspetta un attimo raga ma io li sto raccogliendo i soldi si non vi sento più e non vi sento più perché Non siete più il nostro odore non vi sento più ce ne siamo accorti sono morti tutti ragazzi sono morti No sei morto solo tu alucio Completamente morto Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community a parlarvi e il solito mute siamo arrivati a 80.000 iscritti sul canale youtube E l'abbiamo fatto in così poco tempo che è qualcosa di sorprendente siete stati sempre di supporto siete stati sempre presenti in tutti i video con like commenti Cioè se siamo qui ad 80.000 iscritti tre quarti del merito del vostro un quarto del merito so io che faccio video probabilmente Grazie mille a tutti voi ci tenevo a fare questo ringraziamento prima del video è vero che vi avevo promesso un funny moments nello stile del video dei 70.000 iscritti E in realtà io l'avevo anche quasi finito quel funny moments però poi ho deciso di rimandarlo al prossimo step quello dei 90k E quindi sapete già cosa fare like commenti condivisioni arriviamoci subito ai 90k Perché è successa nel frattempo una cosa che secondo me vale tantissimo per questo canale Cioè è grazie alla Rainbow Six Italian Community è grazie a voi che siamo riusciti a fare una cosa del genere E tra l'altro siamo riusciti a farlo con persone spettacolari che sono onorato di poter chiamare amici Vi lascio allo speciale 80k e divertitevi e poi lasciate like mi raccomando Raga mi fate un saluto che sto registrando? Ciao a tutti i giovani Ciao ciao siamo alla fine di questa raccolta folle stiamo aspettando zio Joseph da mezz'ora che non voleva perdere sta benedetta partita Vi dico solo che hanno clipato da parte di Aluc e hanno chiamata Aluc è così confuso da colpirsi da solo Cioè quando ci sente è stichia Ale noi ti sentiamo Ale Ale ma è normale che non ci senti e cuffie devi mettere così per sentirsi Mio nonno che usa tipo google traduttore per mandarmi i messaggi in inglese No quanto è bello No quanto è ridicolo Cattivo slope Cattivo Cattivo slope Grande mio nonno Forza al nonno Forza a tutti la vita Quando sta zio Joseph Mauro doveva andare in bagno Me l'ha detto pure per messaggio Io devo andare in bagno Io devo andare in bagno Ti prego non chiamarmi Lasta recuperando Ma che è il controller lì? Ma che è? Sentite raga Ti sentiamo Aluc Ma non si gioca tu pc col controller C'ho il monitor Ok c'ho il monitor Aluc è vero da fare Uè Antonio con altri video Grazie Mamanto bravo Bella Mauro vogliamo castarlo Gioseph cerca gli avversari Allo puoi mettere la scherma intero se vuoi Interno di maiali Maiali Maiali? Maiali sa così ma in gergo maiali Ricorifero Continua continui non ti preoccupare Erano i commenti tecnici Due minuti ancora in attesa 4 a 4 Oh qui arriva il c4 Proprio all'interno di sigari Potrebbe lanciare il c4 Quasi forse la volta Attenzione con il c4 Joseph Mamma mia Che bello La call perfetta dal basso Gio Gio forse una volta pure Rentre in chiamata Eccolo Buonasera a tutti Il gatto non sai No Cecilia Gio devi cambiare la fonte Usa la webcam Ci siamo ce l'abbiamo fatta Praticamente non mi vedono su Ma non ti vediamo nemmeno no in chiamata Questo è un problema però Scusa zio E' la carica di Sant'Amaria Hai presa? Non lo so Non tricadate Non sono registrato 20 minuti di video Tanto poi Ho l'editare a Marco Io voglio la promessa in live da Joseph Che da lunedì gioca con Moussa e tastiera sufficiente Tu sei pazzo Ma cosa? A te sei pazzo? Ma tu sei pazzo Prova a giocare con Moussa e tastiera E' meglio che di sì Io ho preso Renditi sette giorni Io un mese e mezzo ci ho messo Un mese e mezzo a prendere schiaffi E neanche vai in libera Io sono una partita dal Platino 2 Minchia, GG Che spettacolo Marco se n'è andato No Joseph Però non possiamo rimanere qui con lo schermo 30 minuti del Platino 1 Eeeh stai una morba Sto scherzando Ti stia facendo trigonare Adesso ti mando Ok Mi sto morendo Questo sarà il video più bello nel mio canale YouTube Ragazzi però per piacere siamo su Twitch Vediamo il bestemmio Raffo non dire che sei vicino a Platino 2 Che cosa che ci bannano Marco, Marco te lo giuro Marco non è colpa mia se perdi Se prendi tutti i match E io ti tengo su Marco Marco Anche io ce l'ho lì in alto Guarda che faccio i grattini sotto al collo a vista Eccolo Eccolo Mi chiamo a castronave già L'inizio l'avevo preso per un distributore di bibite E' Michi che mi dice che è un tostapane E tu un distributore di bibite Allora Raga Vogliamo fare un calcolo Almeno fino a questo momento Quando abbiamo raccolto Tanto penso possa cambiare di poco la cifra Sì Vai Abbiamo fatto tutti insieme Tutte queste belle facce qui Una raccolta fondi Che abbiamo intitolato Assedio al Covid-19 In cui raccogliamo dei fondi per la ricerca Che andranno all'ospedale Cotugno di Napoli C'è già una raccolta fondi attiva Autorizzata dal direttore sanitario Di conseguenza noi ci associamo a questa raccolta Abbiamo fatto una staffetta in live Ci siamo passati un po' il testimone Tutti quanti Abbiamo raccolto tutti quanti i fondi Domani ci sarà la donazione E cercherò di postare L'immagine sui social Poi appena la faccio La passo a tutti quanti loro Ognuno di noi posterà questa immagine Con la cifra totale raccolta Ora possiamo fare un calcolo approssimativo Perché siamo in live Da stamattina alle 9 Ed è mezzanotte Passandoci ovviamente la staffetta La verità sono le cifre A te sono le cifre Perché stai in Canada Non vale Inizia inizio io Va bene vai Vai C'è la calcolatrice Sì Ce l'ho io Allora se me le conti Ok spengo qua Vai Vai allora Due Due Più uno Più uno Più cinque Più otto Ma non c'è il totale Più dieci Ma non potevi far prima il totale Più tre Più tre Ma scusa puoi vedere su Super Bowl Come si fa su Super Bowl Perché c'è il totale di altra roba ragazzi Ma arrivi a fare un'altra twitch Di quei di cazzi Ma quando sei ricco Va bene dai facciamo così dai Ricomincio perché No no 13 e 37 13 e 37 Ci sto Ok Più cinquanta Ok 180 Per Mastro Slope Aspettate che scrivo Mi dimentico 180 Dobbiamo ancora andare avanti ragazzi Non è finita Con calma Oh Luc Vai Ok Allora contamela Vai Allora Un euro Vai Un euro 13 e 37 Tombola 4 euro 12 seconds later E un euro Ok 125 e 12 GG Ma ma che cazzo faccio il commercialista di rainbow Te la faccio più semplice che ho il totale diretto della streaming ti va? Che spettacolo vai Ok 251.44 251.44 Ci tengo a precisare che alcuni hanno donato cifre veramente folli Cioè nel senso veramente alte Non solo Sono importanti tutte le donazioni Però specifico questa cosa Zio J Allora Totale Siamo intorno ai 200 euro Euro più e un euro meno Perfetto 200 per Zio Gio Maurito Te l'ho scritto qui Tu Whatsapp prima 400 Aspetta che leggo 410 410 Ok Noi Rainbow Sixthed Alla community E Beastard Abbiamo raccolto insieme Perché abbiamo usato lo stesso link 1000 Marco quanto erano? 1000 1210 mi sembra 1210 Va bene Diciamo 1210 Poi controlliamo per bene Ok Totale è Ve lo dico subito Abbiamo 2376 euro e 56 centesimi Bella C'è uno spettacolo Vi faccio vedere Eccola qua Scusate se me la passo davanti 2376 euro e 56 centesimi Un centesimo più Centesimo meno Domani mattina Anche perché loro sono ancora in live Sloppy Aluc Non so quando chiude Zio J Non so quando chiude Quindi domani mattina Facciamo un calcolo preciso Facciamo la grafica Versiamo i soldi Poi ci organizziamo Come fare Per versare i soldi E lo saprete su tutti i nostri social Grazie a tutti per aver partecipato Grazie a chi ha supportato la causa Cioè noi stamattina abbiamo iniziato Col botto Perché come diceva Raff Alcune persone sono esplose totalmente Hanno supportato La community Rainbow Six Ha dimostrato di avere Muu Di queste dimensioni Non lo so se lo posso dire su YouTube Però va bene Non fa niente Grazie a tutti Se posso Vai 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 Anzi diverse persone Oggi sia nella streaming mia Ma anche altrove E anche adesso ci scrivono Grandi ragazzi Siamo stati bravissimi Siamo stati grandiosi Io mi sento di dire Ok noi siamo stati grandiosi Ma voi Sono stati loro Sono d'accordo Ragazzi E voi Sono d'accordo Un applauso a loro Un applauso a loro che hanno donato Grazie a tutti voi Beh vai Raff per i miei viewer inglesi Per favore I love you I love you all Io voglio aggiungere un'altra cosa Ma io voglio ringraziare A parte tutte le persone che hanno donato Anche chi ci ha supportato con un messaggio Un post Una condivisione di una storia su un social Perché anche loro hanno contribuito In maniera differente rispetto alla donazione vera e propria Hanno contribuito però a diffondere a diffondere questo verbo È vero Questa cosa che abbiamo fatto oggi È una cosa spaziale Ci hanno messo in pensiero E ci hanno dato tanto C'è stato un gran passaparola Soprattutto su Instagram Un sacco di tag Un sacco di visioni Quindi grazie a tutti Sia per aver donato Sia per aver ricondiviso il post Semplicemente seguito la live Esatto Anche tutti quelli che erano in live In tutte le live nostre Noi come ci vedete Tutte 8 Noi finita questa live La situazione sta peggiorando pure in Italia Quindi è meglio dare una mano Il più presto possibile Per risolvere questa situazione Ma noi tutte 8 Noi restiamo in sight ragazzi Esatto Bravissimo Noi restiamo in sight Stateci anche voi Restate a casa Proteggete il vostro obiettivo La vostra famiglia Le persone a cui tenete di più Quindi restate a casa Bravo Fatelo per noi Fatelo per chi vi vuole bere Per tutti Fatelo per tutti Dato che voi ringraziate Per il passaparola Voglio ringraziare al volo Anche EveryEye Multiplayer Tech Princess Che hanno scritto degli articoli Su questa iniziativa I ragazzi di gioco Lo scemo che ci hanno aiutato A spargere la voce Il più possibile Quindi grazie a tutti quelli Come diceva Ale Che hanno permesso Che questa live Toccasse tantissime persone Grazie a tutti i giovani Grazie Ok Taglio tattico Taglio tattico Vogliamo fare la foto Come ha detto prima Erika Con tutti i cuoricini Vai Famola Vi ricondividiamo Questi 8 o 1 Sarà il cuore perfetto Ragazzi non l'ho mai fatto io Come si fa È un culo È un bel culo È un bel culo Ma qualcuno Tira un bestemmione Tattico Che mi fa la foto Ragazzi vai Fate 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 Noi non la possiamo fare Tanto dobbiamo rimanere Basta Va bene Abbiamo avuto tutta la stupida Ho 17 minuti ancora Evolento Giovani Grazie a tutti quanti Scusate se abbiamo in basso Tutte le vostre live Nel frattempo E nulla Vi lasciamo andare in live Io e Dreven Dobbiamo andare a portarmi A plagio Mi sa che abbiamo raccolto Anche più di Fedez e Ferrani Vero? Questa la vedo un po' difficile Qualche centesimi in più Possiamo arrotondare Giovani dai Poi ci aggiorniamo domani mattina Per i calcoli finali Non sfido nessuno Va bene Ciao a tutti A voi ragazzi Buona serata E grazie a tutti Bella raga Ciao a tutti